salve amici siamo giocatori per caso facciamo la sfida infliggi danni col fucile pesante ad un avversario per la serie di incarichi delta one questa è la quarta sfida delle cinque disponibili ma innanzitutto iscrivetevi al nostro canale per non perdere la nostra avventura allora iniziamo con spiegare che cos'è un fucile pesante ci sono diverse tipologie di armi nel dubbio aprite il tab del vostro inventario e lo vedete ad esempio il fucile a pompa striker che è quello che ho raccolto adesso se noi andiamo a vedere qui vedete fucile pesante questo appartiene alla famiglia dei fucili pesanti poi ci sono anche tipi di armi le pistole le fioccine ognuno ha la sua categoria ma noi serve una categoria che sia fucile pesante quindi la prima cosa che dovete fare è cercare un fucile se nel dubbio aprite il tab lo vedete subito io sono stato anche parecchio fortunato dico la verità l'ho trovata subito e qui avanti c'era uno di quegli uccellacci dorati che ho massacrato e mi son beccato lo stesso fucile ma in versione gialla quindi quella leggendaria che fa sicuramente più male ora mi manca solo un avversario andando più avanti ho trovato qualcuno che stava combattendo bene qui sotto c'era già mio amico lo stava massacrando qui sopra c'era qualcun altro stavano sparando un nfc vedete lì dietro ora devo riuscire a far danno a lui vediamo un po e se si è nascosto lì in mezzo quindi l'ho colpito e gli ho fatto un danno assurdo già marco da ucciso bene in questo caso avete visto la sfida è finita dovete soltanto trovare un avversario sparargli con il pompa o l'equivalente di un fucile pesante e la sfida è finita se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche grazie a tutti